ricetta numero 30 minestra di bomboline di riso riso grammi cento burro grammi 20 parmigiano grattato grammi 20 un rosso d'uovo odore di noce moscata sale quanto basta cuocete molto e ben sodo il riso nel latte mezzo litro potrà bastare prima di levarlo dal fuoco aggiungete il burro e il sale e quando non è più a bollore metteteci il rimanente queste bomboline riescono al gusto migliori di quelle di patate questa dose basterà per sei persone